Ben ritrovati amici di InfoCilento a questo nuovo aggiornamento meteo. Dopo una pausa più fresca e instabile che ci ha interessati negli ultimi giorni, l'alta pressione si è nuovamente rinforzata sul bacino del Mediterraneo, come possiamo notare dalla nostra cartina. Alta pressione che comporterà un nuovo aumento delle temperature, infatti possiamo notare in quest'altro grafico valori massimi che torneranno nuovamente a superare i 30 gradi. Vediamo quindi cosa ci aspetta sul Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel corso del weekend. Cominciamo con la giornata di sabato quando avremo un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutto il settore, qualche nube in più nelle zone interne. Le temperature saranno in aumento. Diamo uno sguardo invece alla giornata di domenica, quando avremo un cielo sereno un po' su tutto il nostro Cilento, con qualche nube sole sulle zone più montuose. Le temperature saranno al di sopra della media stagionale. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.